Ci sono viaggi che portano lontano ed altri che scavano sentieri profondi dentro di noi. Giovani e Missione è il corso di formazione missionaria che può aprirti a prospettive nuove. Attraverso i due weekend formativi avremo la possibilità di comprendere che cosa significa per noi oggi essere in missione e quale scenari possono aprirsi alla nostra vita. Perché anche tu sei chiamato a essere un artigiano di speranza. Non ci credi, vieni e vedi. Grazie a tutti.